Ciao a tutti ragazzi da 100% Social e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone vince convincendo a Benevento, vince per 4 a 1, una partita molto bella che ha avuto anche un inizio movimentato con l'espulsione di Glick del Benevento a gioco fermo che ha alzato la gamba lasciando i segni sul ginocchio di Bologa che poi aveva anche 3 strisce di sangue sul ginocchio e sarebbe espulso con l'aiuto del VAR. Frosinone che aveva trovato il gol anche se in fuorigioco con Charpentier, c'era stato il fuorigioco di Canotto che aveva servito Charpentier in mezzo all'area e poi aveva segnato il gol, quindi giustamente annullato. Benevento che ha avuto tra le due o tre occasioni per portarsi però anche in vantaggio in contropiede, su degli errori di impostazioni di Ricci a centrocampo veramente banali, bravo Ravaglia ad opporsi, Frosinone che aveva avuto anche invece un'occasione con Garritano che aveva mandato di poco a lato e Lulic che aveva mandato dall'altro lato di poco fuori, poi però il Frosinone che comunque stava gestendo la gara, praticamente le occasioni del Benevento le aveva avute all'inizio con i contropiedi, trova finalmente il vantaggio Frosinone con Lulic che secondo me si meritava questo gol, trova la giusta angolazione di tiro, prende palo gol e quindi beffa Manfredini il portiere del Benevento. Lulic che ha giocato un'ottima partita, si è fatto sempre trovare nel vivo della manovra e poi abbiamo trovato il 2-0 con Charpentier che mette in mezzo una palla dopo essersi ritrovato sul fondo dell'area di rigore, la palla piano piano arriva al centro dell'area di rigore dove non c'era nessuno, però arriva a rimorchio Lulic che con un corpo un po' all'indietro rischiava anche di mandarla alta fuori, però invece trova l'incrocio e quindi fa il 2-0. Frosinone che ha controllato molto bene la partita, poteva essere un pochino più attento in determinate circostanze, soprattutto proprio dicevo ogni impostazione perché in certi passaggi veramente banali che potevano essere gestiti tranquillamente e poi hanno innescato le azioni pericolose del Benevento ed è stato veramente bravo Ravaglia a respingere i tiri degli attaccanti campani. Nel secondo tempo Frosinone trova il terzo gol con Charpentier dopo che Gatti era partito dalla sua area di rigore, si invola, trova uno spazio libero, serve Cicerelli, Cicerelli in frosinone non avessi segnato ma sarei presa anche abbastanza con Cicerelli perché c'erano tre compagni liberi in mezzo all'area di rigore e lui che fa tira, Manfredini li apara però le spinge male e sulla ribattuta c'è Charpentier che può approfittarne per fare il 3-0. Però ecco mi sono arrabbiato abbastanza con Cicerelli in quell'occasione perché c'erano tre compagni liberi in area di rigore e lui invece ha attirato. Il Frosinone è in controllo, rischia sempre qualcosina per delle sbavature di troppo, il Benevento poteva essere messo in gioco per errori nostri praticamente, poi però arriva il 4-0 firmato da Cicerelli sul calcio di punizione, è una bella punizione, il Frosinone lo insegnava tantissimo sul calcio di punizione e sembra essere finita qua la partita nel suo insieme, però sul 4-0 ci facciamo trovare impreparati in un'azione sul rilancio del Benevento ne approfitta di serio che batte ravaglia accorciando le distanze e lì c'è un po' di arrabbiarsi sempre, Gatti che indemoniato salva un'altra occasione sulla linea, però mi sa eravamo già o sul 3-0 o sul 4-0 comunque salva sulla linea anche Gatti che poi si arrabbia con i compagni anche perché comunque si era su un vantaggio importante però si stava anche concedendo qualcosa di troppo agli avversari, Garritano poteva fare anche il quinto gol, poi ci ha provato Tribuzzi, primo tiro respitto, secondo tiro traversa, poi è arrivato Novago e c'è a rimorchio e ha tirato in diagonale della palla uscita di poco fuori, quindi c'erano anche presupposti per fare il quinto se non il sesto, una partita che il Frosinone ha gestito molto bene, vero c'è stata l'esposizione di Glick che ci ha un po' aiutato, però il Frosinone era in controllo di questa partita che secondo me sarebbe stata vinta, probabilmente non con uno scarto così, ma sarebbe arrivata comunque la vittoria perché questa squadra sta convincendo giornata dopo giornata e anzi adesso che c'è la sosta secondo me non arriva nel momento migliore perché potevamo fare ancora meglio secondo me sulla striscia dei risultati precedenti continuando a giocare e mettere una pausa di mezzo può facilitare i compiti degli avversari invece. Questo Frosinone però se continua così può tranquillamente dire la sua, non deve avere timori irreverenziali verso le altre che magari hanno già da subito messo l'obiettivo Serie A, noi ci giochiamo il nostro campionato, lo stiamo facendo giornata dopo giornata con un bel gioco, anche con giocatori giovani, quindi possiamo dire sicuramente la nostra. Per questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, mettete mi piace, adesso c'è la sosta, noi ci vediamo dopo Frosinone Lecce, sarà un'altra partitona, speriamo ecco di dare seguito a quanto di buono ho visto finora. Alla prossima e ciao a tutti.